Ciao Ash, io sono Andrea Rotolo e questo è il primo episodio del progetto di Final Fantasy Rotolo doppiaggio italiano. Spero che vi piaccia e che ascoltate Andrea Rotolo. Ascoltate la mia storia. Hey, questa è la maxistoria di come la mia vita cacata capa volta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi qui con te! Vuoi farmi un overlock? Posso avere un tuo autografo? Ecco il cazzo! Farò bene stesso con voi ragazze ok? 3… 2… 3… 1… Er… 2… 1… INSEGNACI A GIUCARE A BLINCEBALL! Ero in un bar lontano da Kaka quando sentii la notizia Il nostro eroe, Jack, spento Volato via come il vento Dannazione, dannazione, dannazione! Zaz, 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 mio padre Abbiamo per tutta la notte Wow, wow Che brutti ricordi, gente Le due squadre che si sono fatte strada fino a raggiungere le finali sono Adolo da i-e-e-e-e-e-e-e, duggles, da zi-souten available No E Don't you raise my hand if I'm on it, then on it. Mmm, whatcha say? Don't you raise my hand if I'm on it? Auron! Si può sapere che cosa ci fai qui? Ti stavo aspettando. Ma che ca... Aspettami! Guarda... Auron, non da questa parte! Oh... Noi lo chiamiamo Sis? Qualcuno è impaziente di morire. Ora morirai! Inferno! Tauron! 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 Non! Non! C'est ça? Tauron! 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 Come son finito qui? E così finì dalla padella al congelatore. Ho bisogno di riscaldarmi. C'è un po' C'è un po' Ma che succede? Lassami! Sì! Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.